Fa il suo esordio sul parquet Quantoni Esce dai blocchi Young Controllato da Mitov Doppio blocco Viene servito Powers che Ecede un po' nel palleggio Ancora un tiro forzato Questa volta la fortuna assista e l'umana 8 a 7 Powers Ballo del numero 19 Scermadini Primo pallo personale Due su due per Tim Bowers Ora Il momento più difficile per Cantoni Causin Non trova compagni liberi Serve Bowers Bowers contro l'Union Si ribattono in velocità Si alza da tre punti Canestro di Bowers Letale la conclusione di Tim Bowers Che si fa perdonare Qualche errore di troppo del primo tempo Riportando Arca Marco Esvini Non si avvede del blocco Vola per terra Mettendoci anche del suo Intanto la deviazione Su Clark Che serve Rosselli L'assist Per Bowers Capolavoro di Rosselli Capolavoro di Rosselli Passaggio a una mano Baseball per Bowers Meno due Umana A 57 secondi Al termine della gara Buono il primo per Bowers Entrato su Perché Al posto di Rosselli Ancora Cantù Buono anche il secondo Parita 73 a 73